a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale siamo qui oggi ovviamente per un video di fa 22 perché voglio portarvi un modulo che state utilizzando in tanti avete tanti dubbi ma prima di iniziare vi chiedo like e iscrivi al canale mi raccomando seguitemi anche su instagram wayne official tube ho iniziato anche su twitch come wayne official twitch mi raccomando ragazzi lasciate un like e vi ringrazio ancora per il supporto stiamo crescendo tanto 4 1 2 1 2 ma prima di parlare del modulo andiamo ad approfondire quello che il modulo perché tutti dicono ogni modulo è più forte dell'altro questo va bene innanzitutto come dico sempre ci sono determinate situazioni di gioco che fanno sì che questo modulo o come voi giocate sia migliore di un 4 4 2 di un 4 3 3 o altro ma come dico sempre ci sono e ci vogliono i giocatori giusti questa è la mia rosa attuale messi anche l'ho trovato scambiabile poi molti sono scambiabili allora per il rombo per il rombo però dobbiamo andare ragazzi su un approfondimento servono giocatori con statistiche di passaggio molto alte è un buon mediano perché se ci mettiamo a fare il rombo con allan fabinio e un altro difensivo non va bene soprattutto è un modulo per liberare i tiratori fraseggiare ok 1 2 veloci e inserimenti io vi consiglio un mediano sicuramente tipo allan ok e poi due che sappiano fare un po tutto in serie abbiamo barella nella premier ce ne sono un paio anche lo stesso tiago alcantara come mezzale molto buono soprattutto ragazzi sfruttati tiri da fuori perché sono molto op il trequartista deve essere per forza di cosa un fenomeno con la palla nel senso che deve saper mandare quindi non possiamo usare un trequartista con 75 di passaggio come ho visto fare e le punte molto rapidi se possiamo anche usare veloci o comunque una forte di testa ci andrebbe meglio è una veloce tipo anche un holland andrebbe bene allora passiamo un po alle tattiche che poi quello che ci interessa allora io la gioco che poi ho tolto 50 di ampiezza 74 di profondità e l'attacco l'ho un po cambiato prima avevo 7 adesso ho messo 6 nell'ampiezza io questo è sbagliato 55 di ampiezza angoli 2 2 allora perché equilibrata innanzitutto ragazzi equilibrata perché non è il momento di fare il pressing ho provato il pressing su primo controllo ho provato il pressing costante ho provato il ripiega allora il pressing su primo controllo non worka si stancano al cinquantesimo avete la squadra distrutta pressing una volta palla persa col cambio adesso che non c'è perché non ci sta aiutando il cambio non c'è molto fatto bene ci sarà una patch su questo non conviene perché lo switch non avviene in maniera immediata quindi ci basta sbagliare poco poco e ci siamo giocati la partita il pressing costante ovviamente solamente se stiamo in svantaggio il ripiega che molti utilizzano per ripartire in contro piede io non mi ci trovo perché si difendita dio però ricordiamo che poi non puoi ripartire così velocemente c'è una meccanica di gioco che va allenata e non me la sento proprio con equilibrata invece mi trovo bene bilanciato non da dire allora perché profondità 74 ho iniziato con 40 45 50 poi mi sono accorto che avendo una difesa molto veloce quindi vi consiglio una difesa veloce volevo andare io prima intercettare è vero forse 74 è troppo è anche vero che meno se uno parte sta per partire in contro piede voi dovete ancora andare davanti al difensore invece qua partite proprio ce l'avete vicino quindi un uno contro uno lì dovete essere bravi nel appunto non farvi saltare costruzione manovra li ho provate c'è chi ha messo anche palla lunga io non mi sono trovato costruzione lenta sì per il fraseggio può andar bene scambi corti ma ragazzi ci mette tre ore la manovra veramente risulta proprio lenta manovra veloce non è questo il modulo sì ok ti attacca veloce poi imbuchi però il problema è che quando trovi una squadra che è completamente chiusa tu non puoi usare manovra veloce se devi impostare tu l'azione perché questo è un modulo dove noi andiamo a impostare l'azione non lo fanno gli altri creazione occasioni ha messo passaggi diretti ho provato inserimenti offensivi però dovrei togliere giocatori in aria e non me la sento possesso palla si più fraseggi si ma non riesco andare al tiro non capisco per quale motivo quindi ci teniamo questa tattica che più o meno accontenta tutti ampiezza 55 perché corrombo li vorrei un po' più schiacciati cioè più attaccati un misto quindi tra 55 e 60 prima ho messo 60 ma in realtà sto giocando con 55 l'ho provato anche prima allora giocatori in aria so che 6 sembra molto è vero in realtà potremmo giocare anche con 5 perché in questo caso siamo meno vulnerabili al contropiede questo è vero però per il momento io voglio che ci sia più gente poi se voi non ve la sentite lasciate stare 6 mettete 5 non ci sono problemi angoli ragazzi 1 e 1 perché finché non fixano gli angoli dove dal tuo angolo partono i contropiedi incredibile ti prendi gol senza far nulla non esiste passiamo alle istruzioni giocatori allora premetto io sto usando due punte molto veloci se avessi invece tipo un holland o un lukaku o una punta forte di testa proverei un'altra cosa partiamo da queste alle due punte rimanere avanti si riuscita alle spalle perché le voglio voglio sapere che sono lì al nostro trequartista io ho messo rimanere avanti ora qualcuno dice no perché poi non viene aiutare ho capito però se io metto rimani ce ne lo rimetto rimane in avanti mi trovo messi mi trovo dei bruin mi trovo di bala me le trovo sulla linea di difensori a prendersi palla io non voglio questo ai centrocampisti allora qua potremmo aprire un dibattito però io ho messo ho lasciato tutto come era tanne a de bruin che mi ho messo copertura al centro questo perché voglio che bruno aiuti nelle fasce e de bruin al centro perché poi cante difesa equilibrata resta dietro e resta in posizione copertura al centro se vi sentite troppo offensivi una delle due mezzale che ha statistiche difensive o di intercettazione maggiore potete dire resta dietro in attacco ai terzini non dico nulla vi ricordate però ai terzini di non mettere invertito ma sovrapponiti ok è un modulo come detto che è worka sì tantissimo però ha dei suoi schemi cioè non non pensi è un modulo anche di pazienza perché se troviamo l'avversario chiuso giri palla 1 2 è un modulo per arrivare al tiro da fuori se avete i tiratori come me in questo caso lo potete fare ovviamente come ho detto il mediano è imprescindibile perché ragazzi il mediano ci serve tantissimo 1 1 dovrà difendere in questa squadra e il trequartista dei piedi buoni in una serie a per esempio immagino un dibala con immobile e un chiesa adattato che ci può stare e poi molto buono c'è barella come ho detto che sì che è molto forte e per la difesa dell'italia ragazzi della serie a scusate molto 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 buono ma ragazzi questo era il rombetto ovvero il nostro 4 1 2 1 2 ricordatevi due perché l'altro è completamente diverso fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sta andando la vostra weekend league le vostre division rivals perché io sto lottando per salire ormai sono imminente in divisione 1 questa è la mia squadra la weekend league l'ho provato ho vinto una partita ma vi assicuro che non è non sono molto convinto delle vedremo un po come si risolva vi ricordo che settimana prossima uscirà anche una nuova nuova patch quindi andremo a analizzarla magari toglieranno un po i tiri da fuori depotenzieranno i portieri un po di cose che comunque vi assicuro che ci aiuteranno per quanto riguarda il gameplay di questo gioco beh ragazzi il video finisce qua spero vi sia piaciuto mi raccomando lasciate il like iscrivetevi al canale veramente stiamo raggiungendo traguardi importanti sono molto contento scrivetemi su youtube su instagram per qualsiasi consiglio io rispondo veramente a tutti bella ragazzi